Benvenuti a Corte Emilia. E' cominciato l'autunno di questa stagione golosa delle cose buone. Siamo in una valle un po' meno conosciuta delle Langhe, Piemonte, zona di grandi eccellenze no gastronomiche, vini stupendi e High Food, questa fiera, la prima edizione di una fiera con tanti stand golosi di cose buone che andremo a visitare uno a uno. Venite con me. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.